Ola ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Poki e oggi siamo tornati qui su Spyro 2 Nella scorsa parte abbiamo fatto, non mi ricordo più che cosa abbiamo fatto, però vabbè, oggi faremo gulp Finalmente, avvalare il nostro gulp, meriti una ricompensa speciale Gulp, cosa c'è ragazzo? Ho la fata, ecco qua Hai bruciato la mia capa, ma stai iniziando davvero a innervosirmi Di ciao, sputafiamme Gulp, il trenza è pronto Gulp, per un sito potrei mettere tutte le fatte che vorrai Sarà più spasso Tutto bene, siamo pronti Grazie a tutti Grazie a tutti No 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 No, no No, no No, no Ok Ok Molto bene Aiuto Aiuto Opi Opi No. Anche Ti ho visto Il T starting Ero Tutto bene No No Ok, ripartiamo. Non sapevo che fosse la mia ultima vita. Oh! 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 Quacka PNG Quacka PNG O'u'u'u'u','u'u'u'u silicon O'u'll'u'u'u'u zł'u'u'u ok ok andiamo ah ah andiamo dai vieni no vieni ok ok ah ok 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 bai 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 ok ah vuoi to te Oh no, ah però, vabbè so come fare. Oh no, ah! Oh! Oh no, ah! Ah! Hopp... vai... Oh no! No, veda... Hopp... 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 Về impendente di più, eh? No! Hopp... Ma come fa a prenderli, oh? Ricordati di bruciare i polli per recuperare la tua salute. Sbrigati però, altrimenti Ghoul arriverà per primo. No, sì, non me ne ha fatto. Ah, però. Ah, 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 ah. Ah Ok 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 Oh Ok 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 1 o e o e e e ok ok Buon appetito! oppa no Eh, mi hanno fatto manca attaccare. Hop, 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 hop. Deve impegnato di più. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. 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 hop, hop, hop. hop, hop. hop, hop. hop, hop. hop, hop, hop. 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 vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!